Uomini e donne trono gay Alessandro, gesto d'amore per Alex Alessandro d'amico innamorato di Alex, lo conferma su Instagram. Si è concluso da poco il percorso di Alex Migliorini al trono gay di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.45. Alex ha scelto Alessandro d'amico e due dal momento della scelta sembrano essere davvero felici ed uniti. I due hanno già conosciuto le rispettive famiglie, di certo hanno preso seriamente la loro relazione. Eppure in molti pensano che la coppia stia bruciando le tappe troppo velocemente. La scelta di Alex è stata registrata circa un mese fa, ma è andata in onda nella puntata di ieri. Mentre guardava la loro ultima esterna, Alessandro ha postato una foto su Instagram Stories, dove si è lasciato sfuggire il suo primo ti amo ufficiale sui social. . Alex e Alessandro felici, si scambiano dediche d'amore sui social. Alessandro più volte ha manifestato la sua felicità con i fan da quando è uscito dal talk show insieme ad Alex. Anche l'extronista nelle ultime ore ha dedicato un dolce scatto al fidanzato su Instagram. Alex ha postato le parole dette durante la scelta. Ha detto di aver avuto molti dubbi all'inizio della loro frequentazione, poiché è abituato a scegliere sempre la strada più semplice. L'extronista ha però deciso di rischiare perché vuole una vita spettacolare insieme a lui. .